difendiamo l'obiettivo grazie vuoi che ti rimetta i sessi vuoi che corri le tue ferite la c'è un assaltatore nemico la c'è un assaltatore ma cassetta medica ecco ecco una cassetta medica dobbiamo difendere questo obiettivo forza cassetta medica per te amico noi difenderemo l'obiettivo ecco cassetta we are losing objective charlie we have lost objective apples we have lost objective freddy la un carro nemico ecco 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 cassetta medica ecco cassetta medica un assaltatore nemico ne ho trovato uno ecco ecco una granata per ieri we have taken objective charlie ecco 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 Grazie a tutti. Sì 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 Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. 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 Sì.